oi pellegrino si ho chiamato per confermare perché ripensamenti io mi stavo preparando qui fino alla fine di chiudere di preparare lo zaino con sarà tutto il necessario non si sa mai in questi casi bisogna stare sempre attenti sempre essere pronti a tutto e adesso stavo scegliendo i bastoni per domani sai un pellegrino deve sempre deve sempre essere accompagnato dal suo bordone tu hai un tuo bordone si 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 quindi mi dicevi domani passeggiate tranquilla easy cavolo dannatamente necessario in questo periodo quindi grazie grazie all'opportunità sono contento mi hai dato una motivazione per andare a far una camminata tranquilla rilassata finalmente ma figurati anzi grazie a te mi serviva proprio lì uno sul campo l'unica cosa vedi di arrivare lì un po prima va bene allora io domani parto molto presto quindi poi quando arrivo ti notifico che sono arrivato e se proprio serve comunque il telefono mi dice che prenderà quindi perfetto tu mi chiami e io ti rispondo e da lì poi va bene quello che ci siamo dato tu lascia fare lascia fare ok grazie dai è stato un piacere dai a domani ciao ciao signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale anche quest'anno è arrivato il periodo delle feste e la gente comincia a parlare di atmosfera natalizia io ho anche intonato il canale però è anche un'ottima occasione per andare a parlare di che cosa sia l'atmosfera e di come voi potete usarla per migliorare le vostre sessioni come master e per farlo mi farò eccezionalmente aiutare dal pellegrino del podcast penna ai dadi del pellegrino come inviato sul campo cominciamo subito col dire che l'atmosfera è lo stato emotivo che voi volete generare nei vostri giocatori ovviamente quale sia lo stato emotivo dipende da quale è la scena che voi come master state introducendo e lo strumento che avete a disposizione per indurre uno stato emotivo nei vostri giocatori sono le descrizioni innanzitutto non fate l'errore di limitare le vostre descrizioni esclusivamente a ciò che i giocatori vedono anzi molto spesso dettagli come i suoni gli odori anche solo la temperatura e la percezione che hanno nell'ambiente hanno un ruolo molto più determinante nel cambiare le emozioni dei giocatori rispetto a solamente la vista la prima cosa a tenere a mente quando fate una descrizione che debba andare a influenzare lo stato emotivo dei giocatori è quella di non introdurre gli argomenti tutti insieme all'inizio della descrizione ma inserire gli elementi descrittivi uno per volta progressivamente in modo che nella testa dei vostri giocatori vada pian piano a formarsi un'immagine di quello che state descrivendo tra l'altro oramai il pellegrino a quest'ora dovrebbe essere già arrivato vediamo se oi pellegrino ci sei? pronto master qui tutto bene il posto è pazzesco le foglie degli alberi creano dei giochi assurdi il sole penetra le chiome gialle, rosse, autunnali dei castagni e dei faggi del bosco creando questi giochi di ombre e luci che si rincorrono macchiando il terreno ricoperto di foglie morte, marroncine e poi non per ultimo questo suono straordinario che penso che puoi ascoltare sono gli uccellini che in questa giornata molto bella anche se è un po' fredda a quest'ora della mattina creano un sottofondo perfetto ora ti lascio che devo superare un piccolo declivio un po' arduo quindi dai ci sentiamo più tardi va bene a dopo il posto sembra bello almeno ovviamente però le scene non esistono nel vuoto ogni scena segue logicamente quella precedente ed è collegata e introduce quella successiva di conseguenza il metodo migliore per indurre atmosfera e indurre un cambiamento emotivo nelle percezioni dei giocatori è quello di introdurre cambiamenti progressivi da scena a scena nelle descrizioni che ne fate in modo non solo da focalizzare l'attenzione dei giocatori su questi cambiamenti ma anche da fare in modo che siano i cambiamenti stessi il motore che innesca un cambiamento nello stato emotivo nei giocatori Pellegrino immagino che su questo anche tu sia d'accordo l'hai trovato il posto tra l'altro? sì sono d'accordo master sì ho trovato il posto le indicazioni che mi hai dato erano molto precisi solo che qua mi sembra una parte diversa del bosco è un po' particolare il sentiero battuto che stavo seguendo prima adesso non c'è più è praticamente poco più che la traccia del passaggio di animali anche se è molto vecchia qui anche gli alberi sono un po' diversi le foglie sono più cadute sarà colpa di questo vento forse il versante è più esposto non saprei ma inizia a fare decisamente freddo freddo anche gli uccelli non cantano più non lo so ho una strana sensazione qualche brevido strano credo che mi riparerò in quella grotta laggiù sì andrò a ripararmi in quella grotta laggiù decisamente fa un po' freddino per il momento mi vado a piazzare lì dai in caso ci sentiamo più tardi va bene rimani nella grotta abbiamo detto di inserire gli elementi uno per volta per focalizzare l'attenzione dei giocatori a questo punto però la domanda logica ovvia è da quale elemento bisogna partire? di quello dipende da che cosa volete fare se lo scopo è generare un forte impatto nei giocatori la cosa migliore da fare è inserire l'elemento più significativo alla descrizione anche se magari decontestualizzato subito all'inizio e poi andare a inserire pian piano gli altri particolari in modo da costruire la scena i giocatori sentendo il primo elemento dovrebbero rimanere confusi domandarsi che cosa sta succedendo e poi pian piano l'introduzione degli altri elementi dovrebbe normalizzare la scena o almeno questo è il metodo che uso io pellegrino tu usi qualcosa di diverso? beh master in realtà anch'io faccio la stessa identica cosa in questi frangenti con l'impatto solitamente cerco di usare un elemento tutto bene scusa sono in questa grotta come ti dicevo prima c'è un grosso teschio che mi sembra mi stia fissando vedo a malapena chiaramente l'ingresso era stretto però sembra il teschio di un lupo credo io mi sposto da qui non mi sento affatto sicuro ci vedo sempre meno come se la luce stesse calando eppure è presto c'è uno strano scricchiolio sì sotto i miei piedi e non mi sembra che ci siano pietre pietrisco non credo di voler indagare oltre io master anche se a tentoni in questo buio completo io me ne vado ma dove mi hai mandato? tu continua vai avanti non stare a preoccuparti tornando a noi se invece si vuole generare un senso di tensione crescente si procede al contrario partendo da informazioni sensoriali generiche magari suoni, gli odori, qualcosa del genere e si va dai dettagli più blandi ad arrivare sempre più nel dettaglio fino ad arrivare in fondo all'elemento più significativo della scena anche in questo caso immagino che tu sia d'accordo d'accordo? sì per quanto io possa esserne d'accordo al buio in un cunicolo che mi sta graffiando tutte le spalle lo senti questo rumore? cos'è? un gocciolio? ma non mi sembra solo questo che cos'è quello? un sussurro? no sarà il vento non sento vento master qui si fa sempre più strana questa situazione però pare che inizio a vederci qualcosa forse mi avvicino all'uscita sì inizio a vedere almeno i contorni delle rocce almeno non rischio di cadere troppo vai verso la luce odore dolciastro nauseabondo anche aspetta quella è una luce oh finalmente posso uscire mi sembra che sì c'è del vento porta questo odore vabbè meglio uscire anche se magari puzzerà un po' io vado lì eh ci sentiamo più tardi spero buono tu vai verso la luce non sbagli mai così finora abbiamo parlato genericamente di elementi descrittivi ovviamente quali siano gli elementi che dovete descrivere dipende sia dal tipo di scena sia dal tipo di atmosfera che volete portare al tavolo fondamentalmente qui andiamo a ricollegarci al concetto di troppe cliché ne avevamo già parlato in un vecchio video ve lo lascio qua in alto se dovete andarlo a recuperare ma in parole povere diciamo che le cose che voi descrivete dovrebbero essere elementi che i giocatori possano riconoscere immediatamente come associati a un determinato tipo di narrazione a un determinato tipo di racconto e quindi possano fargli capire qual è l'atmosfera in cui dovrebbero trovarsi questo è quello che viene normalmente chiamato il troupe recognition cioè la capacità da parte dei giocatori o più in generale da chi fruisce un'opera di associare determinati elementi suoni, odori, immagini quello che dovrà essere a uno specifico tipo di media di racconto o anche di cosa avvenuta nella vita reale i giocatori capiranno che quell'elemento è qualcosa che compare normalmente in quel tipo di narrazione e capiranno di conseguenza l'intera atmosfera della scena semplicemente riconoscendo quegli elementi adesso non lo so se il pellegrino vuole aggiungere qualcosa oi tutto bene lì sei arrivato aspetta un attimo Master sto uscendo dalla grotta anche se ci sono delle scale credo vabbè qui si è alzata la nebbia non vedo un cazzo scusa dicevo non si vede niente aspetta che provo a usare il bastone per per non so evitare ostacoli sì questo terreno molto morbido oddio ho colpito qualcosa col bastone aspetta pare che finalmente la nebbia si stia diradando un po' buono Master dove mi hai mandato? vedo una lapide davanti a me cosa cosa sto facendo qui in un cimitero? sono uscito da un mausoleo beh il discorso sull'atmosfera sembra un film un film d'orrore molto trash inizio a preoccuparmi per il troppo recognition io direi di andare sì ci sono dei suoni strani qui sento dei rumori in lontananza come attutiti sarà la nebbia vabbè io riprendo a camminare quindi tu vai quanto eco cosa è ah no sono i miei passi ah ok posso riprendere allora sì ora no questo eco non sono i miei passi che cavolo ok qui inizia a farsi strano ci sono delle coppie di luci blu nella nebbia ah sono sono master perché ci sono degli scheletri non morti che mi stanno guardando dalla nebbia questo non me l'avevi detto io mi allontano molto lentamente anzi no e credo che correrò via aiuto master sì no 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 ma eh pellegrino sta bene non vi preoccupate sta bene non vi preoccupate diciamo che per questo video è tutto io prima di tutto voglio ringraziare Pietro Sgerzi del podcast penne e dadi col pellegrino che è la voce fuori campo che avete sentito finora e che si è prestato a questa idiozia è stato un piacere master non ti preoccupare nessuna idiozia è troppo grande per farmi partecipare anzi spero che la rifacciamo presto qualcosa del genere e che dire come il master Kae ha già espresso io sono un podcaster tra le altre cose trovate il podcast su spotify apple podcast google podcast davvero su qualunque cosa come penne e dadi del pellegrino ho anche una pagina instagram che si chiama pellegrino tra le storie e che dire parlo di gioco di ruolo parlo di scrittura fondamentalmente mi soffermo sul lato narrativo narrazione di questi aspetti e oltre a questa marchetta sui miei progetti direi che non posso far altro che ringraziare l'ospitalità del master tutta questa disponibilità a collaborare insomma che fa sempre bene spero che il video vi sia piaciuto spero che i miei interventi siano stati divertenti quantomeno e utili beh l'ultima parola la lascio al master e nel frattempo come chiudo ogni puntata del mio podcast ci sentiamo al prossimo crocevia trovate tutti i link ai suoi social nei commenti se volete seguirlo e adesso però come sempre la parola passa a voi perché nei commenti dovreste scrivermi anche come voi utilizzate le vostre descrizioni per generare un determinato tipo di atmosfera nelle vostre quest e come reagiscono i giocatori a queste vostre descrizioni come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video